E' stato catturato in Olanda il pericolosissimo ricercato Francesco Nirta, inserito nella lingua dei trenta latiati più pericolosi. L'arresto è avvenuto nella cittadina di Nieuwergen, che è un piccolo borgo olandese molto vicino a Utrecht e facente parte della provincia di Utrecht. Assieme a Nirta sono stati tratti in arresto due cittadini marocchini e un altro soggetto calabrese a nome Pascolone Denis di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria. Era ricercato dal 2007, era destinatario di provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria e condannato alla pela de Vergastolo per reati diversi, tra le quali anche reati contro le persone e omicidi. Nel corso dell'arresto sono stati recuperati ben 40 kg di cocaina che il Nirta e gli altri quattro detenerono all'interno dell'abitazione dove resideva proprio il Nirta. La localizzazione è stata possibile a seguito di servizi di intercettazione e di osservazione condotti con il personale del servizio centrale operativo che ha curato non soltanto la fase investigativa in senso stretto ma anche quella dei rapporti internazionali con Interpol e con polizia, con polizia non soltanto olandese ma tedesca e svizzera. Il risultato odierno è il frutto di uno straordinario rapporto di collaborazione di polizia avviato con la polizia olandese e dalla polizia italiana assicurato tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia.